Masters of Magic dal 22 maggio, rendezvous per 1500 illusionisti a Saint-Ven-Saint, quest'anno tre repliche per il Gran Galà di Magia. Il 22 maggio a Saint-Ven-Saint inizia Masters of Magic, il festival internazionale della magia. Ne parliamo con Walter Rolfo che è qui con noi, presidente di Masters of Magic. Buongiorno a tutti. Mago soprattutto, prima di tutto. Io dico nato mago a 12 anni. Ecco, questo festival della magia è diventato veramente un festival quest'anno. Sì, è diventato un festival che dura tutto l'anno. Abbiamo invaso la Valle d'Aosta di magia e abbiamo portato la magia sulle piste da sci. Faremo anche il festival, il congresso di Saint-Ven-Saint che è un eventone pazzesco con i migliori maghi del mondo tutti insieme in valle. E poi abbiamo il campionato mondiale di Street Magic, poi abbiamo il summer camp dove insegniamo i bambini a diventare maghi. Poi abbiamo un one-man show in Ganni che faccio io. Insomma, 360 giorni di magia con la Valle d'Aosta, capitale mondiale della magia. Si entra nel vivo però il 22 maggio. Il 22 maggio accendiamo, apriamo la porta del mistero. Chi ci sarà? Saranno i big, i grandi big? Sì, ci saranno i maghi più famosi del mondo perché il prossimo anno organizziamo per la prima volta nella storia il campionato del mondo di magia. E quindi questa è la prova generale. Ci sarà Paul Daniels che è il mago della regina d'Inghilterra. Si è esibito più di 60 volte a Buckingham Palace e un po' il Silvan inglese. Poi avremo Apollo Robbins che è il mago che avete visto su Sky, nella Magia della Mente, quel programma fantastico. E poi Luc Germain che è il mago che ha inventato The Mentalist, il telefilm. Insomma, i migliori maghi del mondo, tutti qua in Valle d'Aosta per quattro giorni di indimenticabile magia. E poi c'è una grande novità, c'è questo gran galà show che si replica tre volte, questa volta che è diventato uno spettacolo importantissimo. Vero, sì perché in pratica ci hanno sempre detto bello, bellissimo ma vorremmo venire a vedere questi spettacoli e non c'era mai abbastanza posto. Allora abbiamo fatto una grande magia, replichiamo tre volte, lo spettacolo si chiama Infinity ed è un'infinita serie di emozioni magiche. Abbiamo debuttato a Londra all'Emirat Sedium e adesso portiamo qui a San San questo spettacolo. Perciò per chi avessi il piacere di vivere grandi emozioni magiche, tre spettacoli, tre repliche di stupefacente magia. Oggi pomeriggio c'è un appuntamento dedicato ai bambini. Sì, oggi con il presidente Mirka Vascinova del Centro Europeo di Bioretica e Qualità della Vita abbiamo organizzato uno spettacolo al Casino delle Valle di San Mensan dove ci saranno più di 600 bambini che si emozioneranno con le magie del mago Sales, che è il mago dei bambini per eccellenza, di Mr. David che è il campione mondiale di Street Magic e di Shazza anche il campione italiano per vivere un'emozione speciale che è la magia del sorriso. Uno spettacolo gratuito tra l'altro. Gratuito e aperto a tutti. Che tu avrai l'onore di presentare. Bene, grazie per essere stato con noi. Noi adesso parliamo di sport. Grazie a tutti.